Buon venerdì a voi! Eccoci qui, buon pomeriggio, siamo insieme a Damien Flex a proposito. Domani non ci siamo, quindi approfittatene, chiamate subito 051 80 60. Innanzitutto cominciate a riposare nel modo giusto, che è fondamentale per il nostro benessere e la nostra salute. Tra poco Barbara ci dirà anche il perché. E poi oggi potete approfittare di un'offerta veramente straordinaria, perché siamo ancora nel periodo particolare dell'iniziativa per la prevenzione contro le allergie. Chiamate adesso. Eh sì, chiamate 051 80 60. Riposare bene è veramente importante, è un diritto che abbiamo tutti. E per riposare bene io conosco un solo modo, lo conoscono oltre 13 milioni di italiani. Riposare si innova a system di Damien Flex, un materasso che veramente vi darà la sensazione di essere stato creato per le vostre esigenze, qualsiasi siano. Quindi approfittatene, chiamate, approfittate di questa offerta che comprende veramente tutto e comprende anche il fatto che quest'oggi voi riposerete in un ambiente igienicamente perfetto. Grazie al fatto che ognuno di questi materassi ha un trattamento anti-acaro permanente, un'azione preventiva contro acari e batteri. Ma parliamo di sconti a Tilio. Prezzi di fabbrica scontatissimi, approfittatene, domani non ci siamo. Infatti il singolo che costa 200 euro, grazie agli sconti, oggi lo pagate soltanto 179 euro. Affrettatevi, chiamate subito. Il matrimoniale che costa 400 euro, oggi è vostro, scontatissimo, ha soli 358 euro più un piccolo contributo per le spese. E poi Barbarella. Se acquistate due singoli o un matrimoniale... Guarda un po' quante cose arrivano a casa, tutte utili, accessori veramente utili come questi due morbidissimi guanciali. E poi ancora, in più compreso nel prezzo per voi, c'è un coprimaterasso, tutto in spugna di cotone. E c'è addirittura il copri rete, ma ci sono addirittura altri pezzi veramente forti che rendono questa offerta ancora più ricca. Certo, approfittatene, chiamate adesso 051 8060 e avrete anche voi questa bellissima trapunta in vera piuma d'oca. Piuma d'oca, morbida, leggera, traspirante, ideale per riposare in primavera, è una gran bella trapunta che vale molto, ma che invece è compresa nel prezzo. E ce n'è anche un'altra, una seconda trapunta, altrettanto belle, altrettanto calda, anzi forse di peso medio questa volta, quindi più adatta alla stagione autunale. Ma la cosa importante è che voi avrete ben due trapunte tutte in pura piuma d'oca. E poi c'è un'idea veramente geniale per l'inverno, o comunque per quando fa veramente tanto freddo. Guardate, un semplice gesto, potete unire le due trapunte e ottenere così facilmente la terza trapunta tutta in piuma d'oca. E in più ancora per voi un copripiumino bellissimo, guardate che bella questa fantasia, si chiama Magnolia. Tutto puro cotone 100%, le fedele sono in coordinato e vi dirò di più. C'è addirittura una seconda fantasia altrettanto bella per cambiare più spesso il vostro legno. Infatti è Double Fast, che ve ne sembra di questa fantasia, anche questa molto moderna e attuale. Naturalmente potrete utilizzarlo anche come lenzuolo oppure come colorato copriletto. E chiamando adesso 051 8060 avrete anche lei, Electa, questa straordinaria rete a doghe larghe che è una combinazione perfetta insieme al Nuova System proprio per il nostro buon riposo. Da sola vale almeno 300 euro, invece fa parte di questa offerta che vale almeno 1300 euro, ma che oggi è vostra a soli 358 euro. Anchiarate se vorrete da appena 15 euro, quindi oggi è venerdì, approfittatene. Domani non ci siamo, chiamate subito 051 8060 perché il vostro riposo ha bisogno di Enitex. Ciao!